Biglietto, signoretto. Ieri ho visto morire uno in tram. Vuol dire che ho i giorni contati. Per questi ho pure. Tutti hanno i giorni contati. Appunto, non lavoro più. Gli anni passano. E come passano? A che guai? Eh? Niente. Ma dico, quando sono fini di soldi, che fai? Sono già finiti. Eh, fai rubi. Ma va. È un impiccio semplice semplice. Sì? Vedi, il suo è un problema squisitamente moderno. Lei, senza neanche saperle, è un esistenzialista. Eh? Io ho fatto come voi. Ho smesso di lavorare. Mi devi dire quanto mi guadagnare un uomo come te in una giornata. C'è stridola. Ti devi difendere. Anche rubare. E sei milioni. Due milioni. E due milioni. Ti fai un bel viaggio. Ti vieni una donna. Due. Tre. Quattro. Non lavori più. Magari. Non lavori più per tutta la vita. Capito? Scusi. Signore. Ma che fu? Niente. Scusi. Ma ve la scippace. Comodo, comodo. 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 Amore. Comodo. Comodo.